È iniziato nel comune di Fiumicino pronto decoro, un servizio di pronto intervento per effettuare piccoli lavori di pulizia e manutenzione in tutto il territorio. In base alle segnalazioni dei cittadini, ha spiegato il sindaco Esterino Montino, due squadre, una impegnata a nord ed una a sud della città, in tempi brevi arriveranno sul posto per riportare il giusto decoro. Tra le attività previste, rimozione delle scritte dai muri, sfalcio dell'erba dai marciapiedi, dalle rotonde e dalle piccole aiuole, rimozione della sabbia dalle piste ciclabili e dai varchi a mare, pulizia delle fermate del trasporto pubblico locale e riparazione delle staccionate. Ma i tecnici tapperanno anche le buche e taglieranno i singoli rami pericolanti, ha concluso Montino. L'appalto da 150.000 euro sarà diviso tra le due società che hanno vinto il bando e che si divideranno il territorio. Il servizio sarà attivato da lunedì al venerdì e funzionerà in questo modo. Le segnalazioni vanno inviate alla mail pronto.decorocchiocciolacomune.fiumicino.rm.it oppure bisogna telefonare al numero 393-99-04108. L'importante è che sia allegata una foto, una descrizione del problema e la geolocalizzazione precisa del luogo dove intervenire. Un addetto valuterà l'ammissibilità della richiesta o se invece dovesse rientrare nelle competenze della normale manutenzione del verde o dei lavori pubblici. Dopodiché smisterà le segnalazioni alle squadre in base alla competenza territoriale.